22. Joe Gartner. Dispettosa, determinata e diretta. Allampanato, divertente, appassionato. È il paradiso. No, ti trovi nell'antemondo dove le nuove anime sviluppano personalità, interessi e manie prima di andare sulla terra. Direi la determinazione. Appassionato di musica. So fare molto bene gli scioglilingua. Multitasking, la diversificazione. Se l'arcivescovo di Costantinopoli si disarcivescovis Costantinopoli zassevi, disarcivescovis Costantinopoli zereste voi come si è disarcivescovis Costantinopoli zato l'arcivescovo di Costantinopoli? Sì, faccio così. Paola, per favore, ci canticchi il motivetto? So che tu sei molto brava a cantare. Per essere una brava persona. Per una cosa bella che ho fatto. Adesso non saprei bene individuarla, però. Eh no, non ci riesco neanche se mi impegna. L'imitazione di Marco Re. No, è impossibile. È un film intenso, è un film che parla di passione, di scintille da perseguire, di predisposizione da non abbandonare e probabilmente che anche quando sembra tutto finito non è ancora tutto finito. Quindi, insomma, di non mollare mai fino alla fine. Perché è bello, perché è divertente, perché è emozionante, perché a volte ci si diverte come pazzi e altre... così, ci si commuove, ci si lascia andare alla... alla... alla tenerezza. Ed è una cosa bellissima. Bellissima.